Ciao a tutti, come costruire un sistema di credenze vincente? Allora, le credenze che cosa sono intanto? Andriamo a scoprirlo in questo video, ma prima iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e benessere di cui ti posto i link in descrizione e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco Allora, il sistema di credenze è ciò che noi crediamo vero ovviamente ciò che noi crediamo vero determina il significato che diamo agli eventi il significato che diamo agli eventi determina le emozioni che andiamo a sperimentare le emozioni che andiamo a sperimentare determinano i comportamenti i comportamenti generano nuove credenze o sono comportamenti che tendono a consolidare le vecchie credenze per cui si innesca questo ciclo in cui le credenze vengono sempre alimentate e rafforzate Ora, non esistono credenze vere o credenze false esistono credenze che danno risultati positivi per noi e credenze che danno risultati negativi quindi credenze che ci rendono vincenti e credenze che ci rendono perdenti ovviamente quello che crediamo influisce moltissimo su come ci comportiamo prendiamo due gemelli uguali identici esattamente uguali stesse caratteristiche con la differenza che uno crede di essere sfigato con le donne l'altro crede di essere uno che con le donne ci sa fare e di essere un seduttore e quindi sono uguali hanno solo queste due credenze diverse però se si trovano un giorno in un bar con due ragazzi nel tavolino vicino che guardano e sorridono l'evento è lo stesso i gemelli sono uguali interpreteranno l'evento in modo completamente opposto quello che crede di essere sfortunato con le donne quindi che questo tipo di credenza inizierà a pensare ecco, mi hanno visto e stanno già ridendo di me l'altro quello che invece crede di essere un seduttore dice ecco, è basato uno sguardo già ridono, le ho già conquistate e ovviamente metteranno in atto due comportamenti diversi quello che crede di essere sfigato e quindi crede che lo prendono già in giro non si avvicinerà neanche resterà lì fermo non farà nulla l'altro si avvicinerà con fare spigliato ridendo da seduttore è probabile che ottenga dei risultati con queste due ragazzi quindi vedete come le credenze possono influire sulla nostra vita quindi noi dobbiamo credere meglio come facciamo a creare nuove credenze? beh, intanto renderci conto di quello che sarebbe meglio credere quando vogliamo raggiungere un obiettivo qualunque esso sia dobbiamo credere di farci ecco, questa è la cosa fondamentale perché uno dice ma quali credenze? beh, di riuscire a raggiungere quell'obiettivo per consolidare questa credenza poi devo suddividere l'obiettivo in tanti piccoli step raggiungibili perché ad ogni esperienza che noi facciamo positiva diciamo tende a rafforzare la credenza stessa la credenza è un'idea immaginiamo il piano di un tavolo e le esperienze sono tutte le gambe del tavolo che gli danno stabilità quando ci sono almeno tre esperienze positive il tavolo sta in piedi con un tre piedi se ce ne sono quattro è ancora meglio è più solido più ce n'è più diventa solido quindi dobbiamo andarci a creare delle piccole anche dei piccoli passi che vanno verso l'obiettivo dei piccoli traguardi questo andrà a consolidare la credenza e la credenza consolidando si andrà a rafforzarsi sempre di più e ci farà mettere in atto comportamenti sempre più validi sempre migliori automaticamente istintivamente che ci porteranno a raggiungere l'obiettivo che desideriamo raggiungere bene per questo video è tutto seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco iscriviti al canale iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione ciao a tutti